Ciao a tutti! In questo video vi spiegherò come si prepara l'impasto per focaccia messinese. Il tempo di preparazione per questa ricetta è di circa 5 minuti. Gli ingredienti sono farina, semola, acqua, latte, zucchero, lievito, olio e sale. Iniziamo subito con la preparazione. Inseriamo nel boccale l'acqua. Il latte, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio. Impostiamo il tempo a un minuto. La temperatura a 37 gradi e la velocità a 3. Grazie. Grazie. Uniamo le farine. L'olio. L'olio. Il sale. Chiudiamo con il coperchio. Andiamo a impostare la velocità a spiga. Il tempo 3 minuti. Spiga. 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 l'impasto è pronto ungere una ciotola con un pochino d'olio prendere l'impasto formiamo una piccola palla lo adagiamo sulla ciotola rivestiamo la ciotola con un po' di carta trasparente di pellicola trasparente e lasciare lievitare per circa 1 ora e 30 minuti l'impasto è pronto l'impasto per focaccia di pomessinese e bimbi grazie e alla prossima ricetta